L'assessore allo sport Alessandro Piccinini, dopo la lunga nota di Gianluca Ius, il manager romano pronto a rilevare l'Aquila Calcio e che attualmente è anche il presidente nel CDA, chiede un incontro con la società interessata all'acquisto. Ringrazio l'imprenditore Gianluca Ius per il senso di responsabilità dimostrato nel dichiarare che in presenza di altri gruppi interessati all'acquisto della società, lui garantirà l'iscrizione al campionato per poi farsi da parte, dice l'assessore Piccinini. Mi piacerebbe conoscere tuttavia la completa composizione del gruppo aquilano che si è fatto avanti. Pur non entrando nel merito della trattativa privata, detto anche l'assessore Piccinini, che si deve fare, lo ricordiamo, con la proprietà che è ancora di Chiodi e Company, ritengo che sarebbe importante per l'amministrazione avere a piena contezza sia del progetto societario che di quello sportivo. Per tale ragione ho invitato l'imprenditore Elisao Iannini a un incontro che si terrà domani in assessorato, chiedendogli di invitare tutti i soci. Mi rendo conto che è un metodo irrituale, personalmente avrei rivolto come mia consuetudine e come prassi un invito a ciascuno di loro, poiché tuttavia, come ripeto, non conosco la composizione della società, ho preferito percorrere questa strada. Mi auguro, ha concluso Piccinini, che la mia iniziativa vada a buon fine e che l'incontro abbia luogo, poiché il futuro dell'Aquila Calcio è una questione importante con notevoli ricadute.